Dopo l'inaugurazione ufficiale, la mostra delle opere in concorso per il Premio Nazionale di Arte Contemporanea Chiaravalle Arte è ora aperta e visitabile tutti i giorni dalle ore 18 alle 23 nei locali del Liceo Scientifico di Piazza Calvario. L'evento, che celebra l'arte contemporanea e i giovani talenti, ha già attirato un gran numero di visitatori, confermando il successo della sua seconda edizione. Il direttore artistico Nicola De Luca ha espresso grande soddisfazione per l'affluenza che si sta già riscontrando, indice del buon lavoro preparatorio e organizzativo che ha coinvolto i curatori, l'amministrazione comunale e la consulta della cultura. Sì, abbiamo organizzato un po' con lo stesso, più o meno lo stesso programma dell'anno scorso, però con artisti nuovi, con artisti diversi. Quest'anno abbiamo allargato un pochino quelle che sono le regioni italiane, abbiamo artisti della Toscana, dell'Emilia Romagna, dell'Lombardia e così via. Oltre naturalmente artisti della Calabria, della Sicilia, della Basilicata. I curatori sono sempre il critico d'arte Maurizio Vittiello, lo scrittore, saggista, gallerista Vincenzo Lepera, più la professoressa critico d'arte storica, professoressa dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, La Racaccia. Grazie a tutti.